Ehi tu! Sì, proprio tu! Ti piace rilassarti con un buon libro? Ti piace gustarti i pasti che consumi? Quando sei in bagno adori riflettere sull'esistenza? Da oggi esiste una cura da tutto questo benessere! È a sinistra! Alla tua sinistra! Ammazza che cane questo! Ma chi l'ha mannato? Nintendo Switch! Da oggi la tua vita cambierà! Dimenticati le buone letture! Scordati il sapore del cibo! Non pensare nemmeno più di riflettere a qualcosa mentre cachi! Dora in poi non dovrai più preoccuparti della vita sociale perché hai Nintendo Switch! Puoi giocare con i Joy-Con attaccati al pad! Puoi giocare sulla TV usando il controller! Puoi giocare usando il controller sul pad! Non ha un cazzo di senso ma lo fai perché puoi! In tanti hanno provato Switch e la loro vita è radicalmente mutata! Una volta avevo una fidanzata, facevamo di tutto, ci divertivamo un sacco insieme, ah se quei muri potessero parlare! Ma da quando c'è Switch non ne ho più bisogno! Ho tutto quello che mi serve! Però, a Zelda, una botta! Guarda che quello è Link! Ma sì dai, col capello lungo, da dietro! Prima stavi bene! Ora invece stai anche meglio con Nintendo Switch! Hai trovato la cura dal benessere e non hai nemmeno dovuto girare un film di merda che cambia direzione a 10 minuti dalla fine per riuscirci! Gorwerbinski culo! Nintendo Switch! E la tua vita non sarà più la stessa! E ricorda, è lo Switch, non la Switch! Non fatemi girare i cogli... Ok, finito! Oh, Coso, abbiamo finito! Oh, basta giocare! Coso! Oh, Coso, ti va fuoco la casa! Oh! Gino, senti! Smonta tutto e chiama il pompiere a recuperare i resti dopo! Ok? Sì, ciao! Gioca, gioca! Ebbene sì, anche io ho acquistato Nintendo Switch e mi sono subito chiuso con Zelda Breath of the Wild perché è un gioco semplicemente stratosferico, in tanti me lo dicevano, ma tra il sentirlo dire e il provarlo c'è una certa differenza! In descrizione qui sotto troverete il link per acquistare Switch da Amazon io ho preso la versione americana che non differisce in nulla rispetto a quella distribuita qui in Italia e anzi l'ho pagata 289 euro invece di più di 300 però senza giochi e menu e giochi sono in italiano, quindi è identica e ci tengo a precisare che questo video non è una sponsorizzazione né con Nintendo né tantomeno con Amazon l'ho fatto io in testa mia perché sono pirro, ho utilizzato questa cagata che spero vi piaccia e il link che sarà in descrizione è quello del normale programma di affiliazione di Amazon che tutti possono utilizzare quindi io spero che il video vi sia piaciuto e adesso scusate ma vado a tornare a giocare a Zelda perché ne ho bisogno! Ciao a tutti!